partiti è in vantaggio Infinity Game passa Rainbow davanti a Infinity Game Damian Sprint Mammaela Stundaio e Camp for Rose dopo 300 metri di corsa è in vantaggio Rainbow davanti a Infinity Game Damian Sprint Mammaela Stundaio e Camp for Rose all'inizio della curva prosegue in vantaggio Rainbow davanti a Infinity Game Mammaela Damian Sprint Stundaio e Camp for Rose poco prima dell'ingresso in dittura è sempre in vantaggio Rainbow davanti a Infinity Game Mammaela e Damian Sprint i cavalli entrano in dittura con Rainbow in vantaggio attaccato da Infinity Game seguono Mammaela Stundaio Camp for Rose Damian Sprint è in leggero vantaggio Rainbow davanti a Mammaela Infinity Game Damian Sprint per linee interne Stundaio e Camp for Rose passa Mammaela davanti a Damian Sprint Infinity Game e Camp for Rose in vantaggio Mammaela davanti a Damian Sprint e Infinity Game Grazie a tutti Grazie.